ciao a tutti bentornati su impara la batteria allora nel video di oggi vi faccio vedere un esercizio velocissimo ci impiego solamente un minuto un esercizio composto da quintine e da terzine messe su un tempo di quattro quarti abbiamo tre quintine e due terzine vediamolo subito ve lo faccio lentamente quintine terzine quintine terzine ovviamente il maneggio si inverte nella prima parte si inizia la quintina inizia con la destra nella seconda parte l'esercizio la quintina inizia inizia con la sinistra aumentando di velocità l'esercizio è un pochino più fluido un pochino più interessante spero che l'esercizio vi piaccia che vi ci possiate un pochino divertire sotto c'è la versione stampabile in pdf scaricatela stampatela fatemi sapere cosa ne pensate mi trovate sui social sul sito dove volete grazie mille ciao a presto grazie a tutti